Stiamo per presentare al Consiglio Comunale un programma di sicurezza tra cui c'è anche l'implementazione del sistema IRIS per intenderci alle vicende di sicurezza e di degrado. Nel nuovo programma informatico sviluppato in un'apposita sezione del sistema IRIS i cittadini potranno segnalare in modo puntuale geolocalizzato se lo desiderano anche con filmati e fotografie qualunque situazione di criminalità o di degrado in modo da consentire un'immediata valutazione da parte del personale della Polizia Municipale e se è il caso un intervento tempestivo. Ma l'iniziativa non è la sola a porre la sorveglianza da parte dei cittadini al centro di una nuova concezione della sicurezza. Nelle prossime settimane annuncia il comandante dei vigili Marco Agostini sanno sottoscritte delle convenzioni con la prefettura e con altri 15 comuni per formalizzare alcuni gruppi del territorio che si occupano di controllo di vicinato garantendo loro un percorso di formazione che li porti ad essere dei segnalatori qualificati di situazioni interessanti sotto il profilo della sicurezza. Diciamo che la signora Maria sarà formata per capire se è il furgone del latte o se è il furgone con qualcuno che vuole depredargli l'appartamento.